e ciao ragazzi e bentornati a questo gioco che non lo facevo da tre anni e mezzo che non sono tre anni e mezzo ma sono due anni e comunque tanto yippie sì siamo tornati vabbè comunque è uscito battle su chi caccia se ne so che di battle 2 quello fa cagare punto siamo a battle su 1 perché almeno c'è già una serie di questo e infatti cioè almeno è più bello secondo me no no ma perché mica che roba farmer vabbè che è tutto so utile ma io tanto non lo su neanche non mi dite che avete rimosso i tornei solo per mettere questa cosa di battle 2 giuro che vi spacco la faccia se avete rimosso i tornei vi spacco male la faccia e vi sono stato allo stesso gioco mi stavo per arrabbiare vediamo se posso fare un torneo a quanto pare no vabbè lo faccio un po' di gioco non capito no ho detto cacchio normali in solo del caccio non mi ricordo bene come giocare a sta roba so che ci sono semplicemente però non devo abbandonanza però non devo abbandonanza sì ho trovato un grande un più abbandonanza che bello io adoro un più abbandonanza tipo la mia modalità preferita mamma mia poi eppure me lo sai di un figlio sì magari resta a trovare qualcuno non ricordo bene come si gioca sta roba so che ci sono molte strategie a quanto pare maione non neanche tante torri non ho tanti tier 4 neanche credo nessun tier 4 ancora quindi state vittimi scord vorrei registrare un attimo se mi trovo una partita non mi sto trovando una partita che bello questo potrebbe essere un problema dai mandatemi una partita ma vi prego una ma una partita almeno dai dai voglio farranno un trio bananza che palle che stifo ma anche se sto farranno un trio bananza che non mi trova la partita bro ma che cagata ma che se ticco tipo in qualcos'altro me la trovi mica da me che la pazzita che mi scommetto qualcosa bro fatemi fare l'anno un trio bananza vabbè so che con bananza si dedica altro a farmare io non sono bravo a farmare ma che non lo so dai voglio fare bananza uffa vabbè c'è pure anche solo ora non un trio però diciamo che cosa è un po' tanto io non ho accesso a essere un classico non ho accesso ma non ho le medaglie quindi si avete capito mi sa che mi sa che questa roba non funziona saldo finché non trovo la partita perché mi scoccio sono già passi 3 minuti così alleluia finalmente mamma mia ci ho messo tipo un po' andiamo almeno che cosa io sinceramente vorrei qualcosa con le farm non lo so perché ma non mi piace andiamo qui che mi da cobra sottomarino e bomb non ti prego grazie ok perfetto temple che ci si può fare qualcosa ci possiamo lavorare non mi sono già dimenticato come si gioca sta roba e rarregniamo dei centri perché vabbè sono buone dai non posso dire che non sono buone sti robbi e anche perché mi provo a facciamo un po' pieno del cazzo adesso facciamo il po' più piccoli che si deve per questo gioco da inizia non sta facendo il po' che si può fare un po' che si può fare un po' questo posto ha diventato un po' lì dovrei averlo però un po' questo è è questo è un po se io non sta fanno qualcosa devo essere sincero io non so cosa vanno a scambi da un po di neri si grande che aiuterà moltissima la bomba contro i neri eh si beh che aiuterà moltissima però c'è la cosa migliore da fare per la bomba fa cagare dico solo questo va bene fa cagare vabbè che cluster è decente la bomba diciamo così il cluster è decente diciamo adesso salviamo per later cannon perchè non sto facendo l'inter gara assoluta no 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 ok 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 il problema è che a lui la trappe ah... i miei blu non li può catturare con la trappe ah... adesso che non sto facendo proprio i pallone la tela troppo la pena dovresti raccoglierla vabbè meglio se non la raccoglie meglio per me ogni cosa non si va il è che Grazie a tutti. E' una partita, l'abbiamo vinta, vabbè. Non è che posso fare altro da non tirare o bananza, il che è un po' peccato, però non era male, immagino. Almeno una vittoria me l'abbiamo presa. Non mettete la pubblicità che mi spacco in due. Ok, addio pubblicità, non ce ne fotte proprio nulla, ma dai, ma c'è pure un'altra parte, che schifo. Ah, quanto addio da pubblicità, sono una cagata assurda. Vediamo un po', posso sbloccare qualche nuovo upgrade o qualche altro schifezzo del genere? Ehm, no, 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 no. Ehm, se facciamo anche i rubini, potrei sbloccare i primi tier 4, che sarebbero per la cosa, come cazzo si dice? Per la Darkmon, chi non lo so più a parlare? Immaggia, rivediamo la prossima torneo, sì, adesso lo faccio bene, perché non ci faccio un torneo. Ma che ci devo fare, sono belli torneo. Solo che non capita spesso di... Oh, oddio. Finalmente, un torneo. Che bello. Vabbè, niente cobra, fissime del cobra. Almeno ho trovato un torneo che posso fare, IP. Ognuno qualcosa, posso fare un torneo, finalmente. Mi piacciono i tornei. No, speriamo che qualcun altro entra. No, perché fare un torneo di 3 sarebbe un po' triste. Diciamo. No, perché questo dovrebbe essere un torneo da 16, se lo facciamo solo in 3 sarebbe un po' triste. Gente, entrate nel torneo, por favor. Perché parlo in spagnolo, non lo so. IP. IP. Ah, sta con Discord, mannaggia Discord, del cacchio. Io santo. Quando quando mi scono le notifications di Discord, faccio le cacchio, quando mi scono un po' naccio. Perché continuo a mixare inglese e italiano? Non lo so, vabbè. Ehm... Vabbè, immagino che dovremo aspettare un altro poco, perché la gente non... non entra, a quanto pare. Cioè, ma che tristezza. Sério, che tristezza. Deve essere un torneo da 16, invece... Cioè, vabbè, 3. Non credo neanche che il torneo ce la farà fare al gioco. Perché ci sono troppo poche persone, mi dici. Io spero di essere una delle... Io spero di essere... È entrato qualcuno, sì. Che bello. Almeno siamo in quattro adesso. È meglio di niente. È meglio di niente, immagino. Certo, potrebbe rientrare in molte più persone. Però è meglio di niente, immagino. Vero. Non so neanche se il gioco ce la farà fare al torneo solo in quattro. No, perché... Sapete com'è? Quattro è un po'... Ok, ce la fa fare. Allora... Io sono contro questo blu mifoso. Questi se ne passano già alla semifinale. Vabbè, però ognuno deve fare solo... Ecco, lo sapevo che sarebbe successo. Immaginavo che sarebbe successo. Non c'erano abbastanza persone, quindi il torneo è stato annullato. Non mi piace un po' questa parte massima. Non mi piace molto questo fatto. Perché poi... Per me è che non molte persone, sinceramente, entrano nei tornei. E... Questo è un po' un problema, perché poi... Sì. Non avete capito. Il torneo poi viene in un lato, ma adesso. Che pelle. Ah, facciamo qui una velocità veloce, dai. Non c'è una velocità veloce su... Non so cosa, dai. Ah, facciamoci una velocità veloce su... Whiteface, venti, perché non posso tornare in... Rainbow. Non c'è per da lì, poi... Dissi. Dart Popper. Eppi. Ehm... Che non fa spero? Ehm... Che non fa spero? Che non fa esce a moon? Allora, io devo farse ninja. Farm. Ehm... Mice. Funziona questo team? Mortaio, no. Vabbè, non coda. Ma dai, pure lui va ninja, ma che cos'è? Ma che cos'è? Pure lui va ninja. Non coda, non coda, non coda, non coda, non coda. Per ora il ninja lo faccio solo uno a uno, perché... Vabbè, voglio raccogliere i soldi per piazzare una banana farm al più presto possibile. Perché... Voglio provare a farmare per una volta, vabbè, non piazzare il mio robo farmer, eh. Per caricao, sarebbe uno spreco incredibile per piazzare un robo farmer. Ma molto. Preto. Lo facciamo così. E adesso abbiamo una nuova piazzata di farm. Io non so farmare bene su sto gioco, quindi... Se vedete che il mio farming fa cagare il cacchio, ora devo fare anche ferito, però. Mamma mia, che difficile fare info. Nello stesso tempo. Sapete una cosa? No, vado a mano, lo piazzo. Ehi. Che me ne fai, dai. No, ok, vabbè, non ho capito, faccio così, mamma mia. Questo che si fa double shot, ma non me ne fai più un carto, se perdo un po' di vita, dai. Ehi, va bene, mi prendo pure double shot, che me ne dica. Io almeno sto farmando, avrei sui sui due di te. Non ti preoccupare che hai tanto nell'hitting, vinto io, mambo. Mi piace il cobra, frate. Mi prendo absorption e poi che cacchio fai? Well done. Eh, ora chi lo dice il well done ora che ho il cobra? Eh? Eh? Ora chi è che lo dice well done? Ora chi è che lo dice well done? Eh? Eh, ora non lo dice più well done. Perché sai che contro il cobra perderai appena prende il triccion, eh? Ora lo sai, eh? No, c'è che è buttato così, uno. Sparco la tempo in due. Eh, c'è l'ora di rubare un po' di niente. No, aveva il maghetto, eh? Interessante. Ok, va bene, abbiamo capito che questa l'ho persa. Forse devo appiazzare un ice. Però sono un po' deficiente, dai. E comunque dai, lo devo ammettere, dà un po' che non gioco a sto gioco, ok? Ho fatto un po' di film, ma... C'è l'avete da un botto che non gioco a bitti di back, quindi... Non mi potete dire nulla, eh? È da due anni che non ci gioco, quindi non ci posso fare nulla se faccio pagare, ok? Non mi bullizzate nei commenti, per favore. Lo so che faccio schifo, però dai. Però è vero, dai, non gioco da un bel po', eh? Non devo ammettere. Devo ammettere da un bel po' che non ci gioco io. Ah... Adesso ho più sconfitte che il vittore di questo caso. Ah... Vabbè. Sinceramente, per questo video è tutto. Noi, raga, eh... Vediamo in un altro video in cui farò non so cosa esattamente, perché... Non lo so. A questo punto non so io neanche più cosa devo fare. E vabbè, ciao, raga. Ciao, ragazzi. Dio, ciao. Non lo so, vabbè. Ciao.